Il Tar è pronto ad esprimersi sul futuro delle luci d'artista di Salerno. Oggi infatti ultima udienza davanti ai giudici del Tribunale Amministrativo dopo il ricorso presentato dai francesi di Blanchet Illumination, la multinazionale che contesta l'affidamento alla IREN decisa dal Comune di Salerno. Rappresentati dall'Avvocato Vincenzo Barrasso sono pronti ad organizzare la Kermesse Natalizia per i prossimi due anni. Sull'altro fronte invece i torinesi di IREN ritengono di essere in una botte di ferro, come è sottolineato al nostro microfono l'Avvocato Lorenzo Lentini. Dalla luce di artista oggi alle luce della giustizia. Le luci di artista le abbiamo viste e oggi siamo sicuri che la giustizia dirà la sua. Siamo abbastanza sereni, la questione ovviamente è una questione delicata, ma siamo sereni sia sul piano procedurale che sul piano sostanziale che abbiamo elementi per confermare la validità di quello che è stata la gara d'appalto e l'assenza di qualsiasi vizio che ci è stato sollevato, soprattutto attraverso un ricorso molto suggestivo che ha tentato di far leva su questioni oggettivamente metagiuridiche che sono strane a quello che è il procedimento, che è un procedimento regolare, è un procedimento della sparendo. Avvocato, oggi si discute davanti al collegio qui al Tar di Salerno. Ci puoi illustrare quelli che sono i tempi attesi per una decisione che tiene Salerno col fiato sospeso? Diciamo che la decisione, come tutte le sentenze di merito, avverrà nel giro di un mese. Siamo sicuri e confidiamo che la giustizia farà il suo corso con grande serenità.